è la lui vedete è quando quando la natura chiama finalmente finalmente hai trovato un team su misura per te è è sapere che c'è anche ecco ecco io fra l'altro quando si vuole tornare lo sai io ci sono sempre anch'io mi ci trovo bene anche un pochino più la insomma insomma gino allora ti spiego come devi fare te devi andare piano perché se ti sembra da andare piano la macchina va forte quando sembra da andare forte la macchina va piano poi se te vai piano e vai piano dici ma io sapevo da andare piano invece se pensare di andare forte vai piano poi ci rimane anche male capito te vai piano e magari tutto quel che viene è trovato ti garba la mia tattica di quando non si va in bicicletta pur di mantenere la forma va bene anche spingere il carrello basta che siano due ruote a lui gli va bene tutto tutto guardate qua chi l'avrebbe mai detto un lenci su una renault è roba da matti è se stiamo un evento storico è un evento storico io sto bene per ora un evento storico un lenci un lenci su una clio su una renault è vedremo delle belle la selmeria una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici si è scordato una macchina a casa si non era storico due a casa un pezzo di storia dei rally toscani e non solo ciao massimiliano hai preso un po di sole oggi si questo è il fratellino più piccolo di apollo 13 stavo presentando al pubblico il fratello più piccolo di apollo 13 personaggi qui che vanno ripresi si attacca l'attacco anche il cavo così si guarda bene beh ciao e lui continua imperterrito l'allenamento questo è il fratello è il fratello più piccolo di apollo 13 questo è il fratello più piccolo di apollo 13 qui vediamo simonecchi e andrea al debutto con una nuova vettura che non ha mai utilizzato come come si trova con questa quali sono le prime impressioni le impressioni di questi primi 30 anni tutto bene guarda tutto bene è tornata calda è tornato un po di caldo e qui ci abbiamo il nostro amico pietro grossi personaggi a questa assistenza grossi grossi straffi dicevo che simonetti è al debutto con questa vettura non l'ha mai usata questo è un pezzo di storia è un museo ambulante no in diretta no questa è indifferita ma è uguale il pupa in versione in versione i due speaker in versione che fai corri siamo al settembre